Musica Sono venuti a ascoltare Quattro minuti da mostro Hanno apprezzato E' stata una grande Esperienza e ricchezza per noi Siamo stati accompagnati da Cesare Maestri, il mito dell'attivismo Italiano e internazionale Purtroppo oggi non è Non è più con noi Però ovviamente Ringraziandolo anche vorrei Dedicare L'allemanda della Sexta Suite Cosa che ho già fatto Ieri sotto Sotto le cime, sotto il Campanilla Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti